Si avvertono i gentili fan che è uscita in edicola la collezione Schifidol Surprise Slime Ciao ragazzi! Allora intanto... Bene, spegniamo questo Ho comprato questo microfono così perché mi andava di fare i video e le intro così Va bene, come vedete non sono l'unboxer qualcosa, sono me, normale E oggi qui con noi abbiamo questa collezione di slime Sono sei tipologie di jelly slime con all'interno tante voce simpatiche diverse Allora, da cosa cominciamo? Questo qua Allora, unboxing proprio veloce, si si Apriamo subito Allora Allora, allora Spellicoliamo E poi che abbiamo qua questo jelly slime Allora, i jelly slime sono tipo del vetro slimoso Ragazzi sapete che il vetro, prima di diventare vetro, è tipo una pasta trasparente Che bollente, ardente, ecco Questo qua sembra vetro, quella pasta di vetro Prima di diventare... cioè non è... non bollente e ardente Anzi è fredda Che bello Allora, che abbiamo qua dentro? Vediamo cos'è Questo slime si chiama slime travel surprise Perché all'interno ci sono delle sorprese a tema travel, a tema viaggi Per esempio, qui che cosa abbiamo? La torre Eiffel Che figata, mamma mia Che poi escono pulitissime Poi, poi che cosa abbiamo? Abbiamo una... Un pallone da basket Ok E... e cos'è? Una squalabus Ok Un bus Che se posso Così Allora, immaginate se gli togliete questa scritta Ok Queste qua sono gli occhi Questi denti Sembrano una rana Invece è uno squalabus Che va tenuto così Ruote, finestre E scritta squalabus Schoolbus Ok E questo qui è il nostro slime All'interno abbiamo tante stelline glitterate Che brillano Apriamo piano piano Guardate Tutte le stelle brillose, luccicose Ok, ecco qua Che figata Mi affascinano i jelly slime Adesso apriamo insieme il jelly sweet surprise Ok Allora, vediamo un po', vediamo Ma che colore è questo? È un semplice trasparente? È un... Non so, perché Allora, c'è questo colore così Questo trasparente E poi Dentro ci sono tanti glitter arcobalenosi Che cosa potremmo trovare dentro il nostro jelly sweet slime? Surprise Cosa troviamo? Una casetta Ok Andiamo qua C'è un alberello Sembra natalizio Nostra casetta E sugar candy Quelle lì di Natale Non so come si chiama in realtà in italiano Poi Poi Che cosa abbiamo? Qui Cosa abbiamo? Che cosa abbiamo? Questa è una Una ghirlanda Ok Allora, allora, allora Liberiamola dallo slime Eccola qui Eccola qui E poi abbiamo tanti alberelli Tanti fiocchi Che belli Fiocchi di neve Aspetta vi faccio vedere Allora, eccoli qua Fiocco Non esce, eccolo Un fiocco di neve Poi cosa abbiamo? Alberelli Ecco qua Questo è un alberello Guardate che mix di colori Rosso, giallo, verde, azzurro Bello Gli slime schifido Non li batte nessuno Eh eh Beh, beh Schifido le schifido Non ho niente da dire Allora Questo qui si chiama Jelly frizz surprise È un jelly slime Blu Ad o almeno azzurro Vediamo un po' Sembra Questa è sempre una tazza Con all'interno due cactus Adesso vedremo Cos'è Cos'è Sono tutti super profumati E lo slime in questione È questo qui Allora Che cosa abbiamo qui? Questa è una stellina Glitterata Poi Poi Che cosa abbiamo? Cos'è? È un riccio Con un lampone In testa Ok Poi 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 Cosa si trova All'interno di questo slime? La tazza di prima Con due cactus Dentro Non so cosa siano In realtà Sapete Scrivetemelo qui sotto Nei commenti Cosa sono Perché non so Apriamo questo qui Che si chiama Kisses Surprise Quindi Sorprese Baci Allora All'interno Vediamo una borsetta Una scarpa Col tacco Tutta glitterata Poi Due labbra Apriamo questo Jelly Mermaid Surprise Ok Adesso la voce Mi è un po' cambiata Allora Allora Vediamo un po' Questa è sirena È Jelly Mermaid Una sirena Jelly Una pianta Cosa Che è? Ma voi state scherzando Spero Una pianta Ma? Cioè Non finiva più Continuava a tirare Poi 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 Cosa troviamo Sicuro la sirena Per forza Chiava Mermaid Surprise Dobbiamo trovare una sirena Le sirene esistono? Una in classe mia Dice che esistono Scrivete sotto qui Nei commenti Ah e dice Di non andare nei boschi Alle tre di notte Senza un proiettile d'argento Molto importante Siree tv Danno alla testa Le serie televisive Allora Che poi Ma anche Da persona normale Chi ci va in un bosco Alle tre di notte? Nelle forete? Già sei un po' Hai qualcosa di strano Se vai in un bosco Alle tre di notte Mi raccomando Non andare nei boschi Alle tre di notte Senza un proiettile d'argento Ma per favore Ma perché? Poi dove lo trovi Un proiettile d'argento? Cioè Vabbè Sirena Pesce E pianta Sembra un'alga Un'alga Così Questo è un Alga E questo qui È il nostro Slime Ok L'ultimo Della collezione Microfono Spento Ok Questo è il Flamingo Surprise Quindi Sorpresa Fenicottero Ok Questo odora Di arancia E abbiamo Un'altra Pianta Ok Poi 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 Cosa Allora Questo è uno slime verde E vediamo Che In sicuro Si trova Un fenicottero Eccolo qua Il nostro fenicottero Ricordatevi Di chiedere All'elicolante La rivista Abbinata Allora Ragazzi Che ne dite Di questi Sei slime Qual è Quello Che vi è piaciuto Di più Quali sono Le sorprese Che vi sono Piaciute Di più Scrivetemelo Qui sotto Nei commenti E noi Ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ragazzi Che Che ne dite Che ne dite